Filippo? Che succede? Filippo? Filippo? In questo momento si trova in un quadro di insufficienza epatica molto grave. In che senso? Tratto da una storia vera. Bisogna aspettare il donatore. Sembra Spider con tutti i stagini. Se sei capace pure di ride della disgrazia, poi fa tutto nella vita. Una storia di altruismo e di rinascita. Qualcuno che non ho mai conosciuto ha mandato una seconda possibilità. In prima visione assoluta. Amici per la pelle. Questa sera alle 21.25, Rai 1.